Il Paese Il Paese Il Paese Il Paese Il Paese Il Paese Il Marsigliese Ma che volo questo Marsigliese? Si facesse gli affari suoi e noi ci facciamo i nostri Non avete ancora capito che noi facciamo sul serio? Ma veramente sul serio? Il corpo di Cristo Questi giocano duro Luca Stai attento e copriti le spalle Se non li fermiamo ci fanno fuori tutti, uno dopo l'altro Non può finire in un modo così stronzo, in un posto così stronzo Luca! Luca, mi prego, devo un po' di cosa Non possiamo fermare le pranzi Ci sono 200.000 napoletani a Napoli che vivono di contrabbando Ma quello buono, quello onesto, quello delle sigarette Che tipo di appunto? La vostra organizzazione e i miei fornitori Il ricavato 50 e 50 Con le sigarette avete mangiato pizza e souffli Io dico no Dico no al marsigliese, dico no alla droga